Buonasera e benvenuti o bentornati a Restart 264. Con il ritorno anche di Samuel Maiolatesi in regia e Lorenzo Capezzolera anche qui vicino a me. Buonasera Aurora, buonasera a tutti voi, bentrovati anche da parte mia e del nostro ritorno. A volte ritornano Samuel Maiolatesi in cabina di regia, come ha detto Aurora. E a volte ritornano anche gli argomenti che andremo a trattare, anche la grafica che vedete alla mia sinistra, di senso vista quirinale. Quindi torniamo a parlare su quanto già avviato ieri, quindi le tensioni che si sono verificate all'interno della maggioranza per l'ultimo decreto, il decreto che impone una nuova stretta per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Un'emergenza che abbiamo visto come davvero sta galoppando. Ieri i contagi hanno sfondato la soglia dei 200.000. E noi parleremo di questo, ma appunto di ciò che è quella che è la partita più importante nella vita istituzionale della nostra Repubblica italiana, ovvero l'elezione del Capo dello Stato. Lo facciamo con il nostro ospite che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. All'Onorevole Alessandro Cattaneo di Forza Italia. Benvenuto Onorevole. Grazie, grazie a voi per l'invito. Allora, partiamo appunto dall'ultimo Consiglio dei Ministri, dove si sono generate alcune fratture, se possiamo definirle così, tant'è che alcuni hanno definito l'unanimità con cui è stato approvato il decreto un'unanimità solamente di facciata. Qual è la sua idea a riguardo? Ma io credo che alla fine comunque il risultato del Consiglio dei Ministri sia un ottimo risultato. Consideriamo che viviamo in mezzo a una pandemia drammatica che è oggettivamente difficile per chiunque, per qualunque governo del mondo, gestire, però devo dire che l'Italia ce la sta facendo e ce la sta facendo anche bene. Adesso c'è questa variante Omicron che ha cambiato nuovamente il contesto e bisognava prendere delle decisioni complicate. Secondo punto, consideriamo che questo è un governo che tiene oggettivamente insieme forze diverse tra di loro, che sono tenute insieme proprio perché c'è questa emergenza. Allora a fronte di un contesto così complicato, di forze diverse, riuscire comunque alla fine a decidere e a decidere iniziative anche dure, forti come quelle che sono state decise e prenderle all'unanimità, io guardo questo petto come estremamente positivo. Cioè alla fine il bicchiere è più che mezzo pieno, perché alla fine le decisioni sono state prese, sono state prese all'unanimità e credo che siano le decisioni giuste per proteggere gli italiani dalla variante Omicron e dall'altra non richiudere l'Italia ma continuare a sostenere la crescita economica. Ecco però onorevole, con le divisioni interne insomma che sono comunque trapelate dei euro e de facto anche fuori dalle colonne di Palazzo Chigi, sembra diciamo così essere impossibile andare avanti con questa nuova maggioranza. Insomma il sentimento è che fra le varie richieste delle varie forze politiche ci sia sempre il presidente Draghi che deve cercare di metterci una pezza, diciamo così. È questo il sentimento? Ma allora sempre il premier storicamente alla fine media, tra le posizioni della maggioranza, emette il punto finale. Draghi lo fa con tutta l'autorevolezza di cui lui è portatore e quindi non ci vedo niente di male in questo flusso decisionale. Io sono tra quelli che auspica i Draghi, prosegua a fare il premier perché appunto riesce alla fine a fare sintesi e riesce a tenere insieme forze politiche così diverse. Quindi io, come Forza Italia, no, abbiamo questa posizione, noi riteniamo che Draghi per l'importanza del ruolo che stia svolgendo sarebbe importante andare avanti a svolgerlo. Certo, se venisse meno Draghi perché qualcuno lo vorrebbe magari al Quirinale sicuramente sarebbe più complesso. È ampio questo fronte, questi qualcuno. Perché comprende lui stesso forse. Esatto, sono tanti. Tant'è che poi tra l'altro, onorevole, io volevo chiederle, lei ha detto è normale, effettivamente è così, è normale che poi sia il premier a trovare un punto di caduta e quindi un compromesso che trovi d'accordo tutte le forze di maggioranza, sebbene una maggioranza così eterogenea, io credo non ci sia mai stata nella storia della nostra Repubblica. E sembrerebbe sempre, secondo alcuni nostri colleghi, anche molto più autorevoli di noi, che Draghi in realtà si sia un po' scocciato di trovare compromessi. Ma no, io non ho questa impressione. Anche perché il compromesso va a parte della politica, ma poi il compromesso, non leggiamolo sempre in negativo. Innanzitutto chi dice, come dire, che Draghi è troppo vincolato dai partiti è smentita dai numeri questa tesi, perché noi continuiamo a fare voti di fiducia alla Camera, che sono uno strumento, come dire, straordinario, che noi stiamo usando in maniera ordinaria. Quindi ci arrivano i provvedimenti del governo, vengono votati da un solo ramo del Parlamento e dall'altro vengono votati con voti di fiducia e via andare. Quindi comunque i partiti hanno uno spazio di dibattito parlamentare che è contingentato e stessimo. Poi secondo, i partiti mi sembra che spesso lavorano anche a migliorare i provvedimenti. Parliamo anche dell'ultima legge di bilancio. Per esempio, sul 110%, tanti italiani chiedevano di poter andare avanti e effettuare i lavori che magari hanno iniziato in un'abitazione. Abbiamo difeso gli interventi sulle uni familiari, abbiamo tolto il tetto ISEE, abbiamo allungato la durata del provvedimento complessivo. Non mi sembra sia un lavoro, come dire, strumentale, di parte, fattioso, controproducente. Mi sembra sia stato un lavoro utile. E su questo potrei elencargli un sacco di altre iniziative che il Parlamento e i partiti hanno preso per arricchire e rinforzare i provvedimenti del governo. E' una giusta, secondo me, legittima, doverosa dinamica parlamentare. Onorevole Cattaneo, invece, partendo ad analizzare gli alleati storici di Forza Italia, cominciando proprio da quelli invece che fanno parte anche della coalizione di governo, cosa ne pensa dell'attuale Matteo Salvini? Effettivamente il leader della Lega sembra essere un po' più sottotono rispetto al passato roboante a cui, diciamo così, le cronache politiche ci hanno abituato. Secondo alcuni, questo nuovo atteggiamento sottotraccia di Matteo Salvini è un modo, non certificato ancora, però, per arrivare a sganciare la sua Lega da questa maggioranza dopo l'elezione del Capo dello Stato. Voi da Forza Italia avete questo sentore? No, onestamente non abbiamo questo sentore. Credo che Salvini sia impegnato in una, come dire, opera all'interno del governo Draghi in cui cerca di portare un valore aggiunto coerente con i suoi valori, che alcune volte sono vicini ma diversi dai miei. E quindi, per esempio, è innegabile che sul tema dei vaccini, Green Pass, abbiamo dimostrato Forza Italia e Lega un approccio diverso. Io, come Forza Italia, sono molto convinto e orgoglioso delle scelte che abbiamo fatto e le riferei tutte. Poi, detto questo, però Salvini mi è sempre impegnato anche lui in un'azione di arricchimento dell'azione del governo. Ribadisco, poi l'elezione del Quirinale è un capitolo a sé, è un capitolo molto importante, vediamo cosa avverrà dal momento dopo. Ma quindi, secondo lei, questa legislatura andrà al termine, arriverà fino al 2023 o si sfascerà subito dopo l'elezione del Presidente della Repubblica? Sebbene, sembrerebbe che nessuno in realtà voglia andare alle elezioni anticipate. Io credo che la legislatura durerà fino al 2023 e credo che andremo avanti con Draghi. Naturalmente il passaggio sul Quirinale però è determinante. Anche su questo punto di vista noi di Forza Italia abbiamo le idee chiare, vediamo cosa verrà nei prossimi giorni ormai, nemmeno più settimane, giorni. E allora approfondiamole queste idee chiare che avete come Forza Italia, perché sebbene il diretto interessato non si sia mai espresso, c'è da dirlo, né Silvio Berlusconi, mi sto riferendo, né tantomeno Mario Draghi, qual è la strategia, chiamiamola così, di Forza Italia? Perché almeno sempre sui giornali si parla di una caccia ai peones, la caccia ai fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle, agli ex renziani, al gruppo misto. E' davvero così? E se è così, come sta andando? Ma no, non c'è nessuna caccia. Non è questo il modo con cui si elege un Presidente della Repubblica. Innanzitutto, quando dico abbiamo le idee chiare, il primo punto è che il centrodestra ha i numeri, come mai prima, come non successo nelle ultime elezioni del Presidente della Repubblica, per poter dire la propria. E questo è anche un'assunzione di responsabilità che noi ci prendiamo sulle spalle. Bisogna, in qualche modo, passare da noi, partire da noi come centrodestra. Quindi il primo punto è tenere insieme il centrodestra. Come lei ha ricordato... Sembra facile, però. Beh, però mi sembra che lei ha ricordato che il Presidente Berlusconi non è certo lui che ha fatto nessun passo in avanti, anzi, lui più volte si è tirato via dal dibattito, perché è inutile e pretestuoso fino a questo momento. Però sono molti in tutto il centrodestra, ovviamente in Porta Italia, ma non solo, anche nella Lega, anche Fratelli d'Italia, anche in qualche fuoriuscito, tanti sono gli appelli, l'idea che per l'autorevolezza internazionale, per quanto ha fatto nel nostro Paese, per il ruolo anche che ha assunto nell'ultimo periodo di Covid, possa essere la persona giusta per interpretare questo ruolo. Ma diciamo in questo momento, tante figure, anche autorevoli del centrodestra, iniziano a vedere, a identificare Berlusconi per questo ruolo, però poi riparisco, saranno poi i vertici dei prossimi giorni a stabilire quali saranno le scelte che si faranno, anche perché, come è noto a tutti gli italiani, le prime tre votazioni sono a larga maggioranza, dalla quarta invece si può iniziare a stringere il campo e andare su una maggioranza secca, il centrodestra non è lontano da quella maggioranza. Però, e poi concludo sul tema Quirinale, non mi piace la sinistra o il 5 Stelle, che invece partono dai veti. Prima ci dicono, ah bene, avere un approccio alto, un approccio di unità nazionale, è questa la via. Un metodo che segue insomma quello che ha portato a questo governo. Esatto. Non invece ai Presidenti della Repubblica, che quando la sinistra aveva i numeri si sono sempre eletti con la maggioranza secca di centro-sinistra e non hanno cercato condivisioni. Ma detto questo, perché il centro-sinistra è sempre bravo a fare, come dire, la ramanzina in casa altrui, però invece, tornando all'approccio del centro-destra, non mi piace quando la sinistra mette i veti ai candidati del centro-destra senza neanche che i candidati ci siano ancora. Ecco, questo non è il metodo per iniziare a discutere di capo dello Stato. Fischieranno un po' le orecchie allora, quel del Nazareno al Partito Democratico? Perché effettivamente lei, onorevole, fa riferimento a Enrico Letta, che viene raccontato insomma come intransigente, assolutamente non vuole modificare il suo orientamento, ovvero quello che non vuole vedere il segretario Dem sedersi a un tavolo. Su questo tavolo c'è il nome di Silvio Berlusconi. Letta ha detto che non vorrà aprire la minima trattativa. Sempre però dalla sinistra, o meno da ex inquilini anche del Partito Democratico. C'è quel Matteo Renzi che sta stringendo alleanze con Coraggio Italia, con quel Giovanni Toti che militava anche in Forza Italia, e che un po' ha preso anche, diciamo così, tra virgolette, in giro Silvio Berlusconi, dicendo lui sì, il Cavaliere crede al Quirinale, però sembra che i suoi alleati di governo non siano proprio d'accordo. Insomma, ancora, nonostante non ci sia la candidatura o il nome di Berlusconi presentato effettivamente da qualcuno, le voci intorno al Fondatore Azzurro sono belle, consistenti e soprattutto non particolarmente amichevoli. Ma no, non le leggo come non particolarmente amichevoli, le leggo come, come forse Toti ha fatto più una descrizione da ex giornalista della situazione, e quindi ha descritto un po' i blocchi di partenza come stanno, e quindi, però, ripeto, la prossima settimana ci sarà il vertice del centro-destra e si inizierà a chiarirsi. È ancora da stabilire come data, diciamo esatta, ma l'ultimo che c'è stato a Villa Grande, esatto, appena prima di Natale, il giorno 23, ci si era dati come metodo di rivedersi nella settimana di ripresa, e quindi di solito ci si vede il mercoledì, il giovedì, però non c'è ancora una data, ma c'è già l'impegno ad aggiornarsi e rivedersi. Io riallacciandomi a quanto però le stava chiedendo prima Lorenzo, onorevole, sempre tornando all'asse Toti-Renzi, che appunto starebbero premendo in realtà da diversi mesi per creare questa nuova compagine, il grande centro, ci potrebbe essere spazio anche per Forza Italia? Questo magari non nell'immediato futuro, quindi per l'elezione del Presidente della Repubblica, ma dopo? Ma intanto, vabbè, la politica, l'arte del possibile e dell'impossibile, il dialogo di Toti-Renzi mi fa un po' ridere, perché il più streno avversario di Toti, governatore della Regione Liguria, è stata Raffaella Paita. Raffaella Paita è una degli esponenti di punta di Taglia Viva, e sorride un po' a immaginarli a braccetto a fare qualche conferenza stampa insieme. Però insomma... E' una cosa che è onorevole, anzi, sembrerebbe che già hanno messo a punto addirittura una specie di accordo per iscritto, che poi sarebbe già... Una specie di contratto di governo, per dirla... Sì, per dirla in maniera giallo-verde. Avrebbero messo a punto... Vedremo nei prossimi giorni. Giovanni Toti ha vinto la Liguria perché è espressione saldamente del centro-destra. Però detto questo, adesso vediamo quello che succede nei prossimi giorni. Quindi Renzi è in elezione del centro-sinistra? Beh, puoi dire, Renzi è stato eletto in questo Parlamento, lui e i suoi, per segretario del Partito Democratico. Poi tante cose sono cambiate. Lei mi chiedeva, il tema politico che poi lei solleva, è il tema per il futuro esiste il grande centro. Allora, il grande centro tutti lo teorizzano, nessuno è riuscito mai a crearlo. Io credo che esista il centro del centro-destra, come probabilmente esiste il centro del centro-sinistra. Però credo che siamo in uno schema bipolare, nel bipolarismo ci rimarremo ancora di più nel momento in cui la sinistra fa un accordo organico con i 5 Stelle, nel PD torna da l'EMA. Quindi, se quello è il polo della sinistra, il bipolarismo esiste come? Io faccio il liberale del centro-destra. Questo è il mio compito, il mio ruolo, la mia positiva. Onorevole, poi, cambiando, diciamo così, argomento, spostandoci non alla politica nazionale, ma a quella internazionale, le chiedo un parere sulla bozza della Commissione dell'Unione Europea, sull'inserimento del gas naturale e del nucleare di ultima generazione, nella cosiddetta tassonomia verde, quindi quella Europa a inquinamento zero che si vuole creare verso il 2050. Eppure, una questione, quella del nucleare, ma anche delle rinnovabili, che spacca la maggioranza. Qual è la vostra posizione a riguardo delle fonti alternative di energia al carbone e, stavo per dire il metano, però effettivamente il gas verde fa parte della tassonomia verde dell'Unione Europea? Guardi, abbiamo le idee molto chiare. Proprio oggi abbiamo spedito a Palazzo Chigi la nostra, parlo come Forte Italia, il nostro piano per l'energia del Paese Italia. Perché si parte dal caro bollette, agli italiani giustamente sono arrabbiati, attiende purtroppo, sono in ginocchio per il caro bollette, ma allora scopriamo che abbiamo un mix di produzione energetica del tutto anomalo e inadeguato in Italia. E che sia chiaro, la colpa è dei no che in decine, negli ultimi 10, 15, 20 anni, troppi anche partiti hanno detto. Il no dei 5 stelle a qualunque infrastruttura, il no di una certa sinistra alle centrali di qualunque tipo, il no al nucleare nel referendum l'ultimo del 2011. Oggi noi paghiamo questa stangata perché abbiamo detto quei no. Questo sia molto chiaro. Qua permettete, faccio anche l'ingegnere, che è qualcosa, come dirò, studiato in ambito di approvvigionamento di energia. Allora, l'Unione Europea ha ragione. Ha ragione nel dire che oggi metano e nucleare sono lo strumento per poter raggiungere domani una piena autonomia da fonti rinnovabili. Quindi, dire che oggi siamo in grado di dare agli italiani tutta l'energia con le rinnovabili, non corrisponde al vero, non è così, non sarebbe nemmeno sostenibile da un punto di vista economico. Allora, quali sono le energie più pulite? E per pulite significa soprattutto oggi che riducono le emissioni di CO2? La risposta ha, ma non ha una risposta politica, ha una risposta chimica. Le minori emissioni le abbiamo con il nucleare e le ammettiamo con il gas naturale. Purtroppo il gas naturale, però, noi lo prendiamo tutto dall'estero, soprattutto dall'est Europa, e siamo soprattutto dipendenti dalla Russia. Se la Russia alza il prezzo con il giro di valvola, noi lo paghiamo quello che è, perché non abbiamo alternative. E meno male, per esempio, che abbiamo fatto il TAP. Ve lo ricordate il TAP? Quello per cui i 5 Stelle... Sapete che se stavamo riusciti a bloccarlo, avremmo avuto, oltre al rincaro del 50% che abbiamo, del 60%, un 10% in più. Ecco, un no, che per fortuna abbiamo evitato e quindi abbiamo leggermente calmerato l'aumento. Questo è giusto per spiegare agli italiani che quando si parla di energia è un tema complesso. Quindi noi diciamo, sia la transizione green e anche qua un'operazione verità, ma lo sapete che in Italia anche le rinnovabili sono bloccate dalla burocratia, dai comitati dei no, perché non si vogliono i pannelli solari, non si vogliono le paleoliche, non si vogliono... Per il paesaggio, esatto. Sì, sì. Cioè, allora questo paese non vuole niente e poi si lamenta se l'energia la paghiamo tanto. Ragazzi, la botte piena, la moglie ubriaca non si può avere. Allora, noi oggi abbiamo presentato un piano serio, solido, fatto di numeri, fatto di, come dire, esperti che ci hanno accompagnato nello scrivere, per dire all'Italia cosa bisogna fare. Quindi un domani le rinnovabili assolutamente, sì, in Italia, può essere anche avanguardia. Oggi ci servono ancora gas e nucleare. Il nucleare, per esempio, ogni notte lo compriamo a prezzo stracciato dalla Francia, è male. Altrimenti non avremo neanche lì 3 litri di giorno. Non vorrei essere troppo tecnico, ma qualche volta è bene parlare anche di queste cose con la dovuta competenza. Anche perché è stato chiarissimo. Anzi, magari l'approfondiremo in altre occasioni proprio questa questione del nucleare. Io le chiedo in conclusione perché le abbiamo fatto la domanda sull'energia? Perché è un altro tema che sta spaccando la maggioranza. E su questo alcuni osservatori ritengono che Draghi forse avrebbe potuto fare un po' di più in questo anno da Presidente del Consiglio. Anzi, alcuni hanno definito un'occasione mancata alla presidenza di Mario Draghi. Lei cosa ne pensa? E davvero dopo di questo la salutiamo? Ma no, io credo che la transizione ecologica sia un tema talmente importante però come vedete è anche complesso al di là del titolo che non può essere esaurito in qualche decisione a spot. Tra l'altro c'è stata la riconversione di un ministero che si chiamava dell'ambiente aveva un approccio come dire un po' più ideologico lasciatemi dire e oggi invece è il ministero della transizione ecologica quindi dove c'è anche un patto con l'industria per poter cogliere le sfide. Quindi all'interno di un tema molto complesso l'Italia si è messa in cammino e quindi io credo che anche da questo punto di vista insomma la strada sia iniziata a essere segnata e dobbiamo proseguire con grande convinzione. Allora come promesso onorevole la liberiamo stavolta. grazie ad Alessandro Cattaneo di Forza Italia una buona serata e un buon lavoro a tutti voi. Alla prossima. Grazie, buona serata a tutti voi grazie dell'invito alla prossima. Grazie, buonasera onorevole. Grazie a lei per averlo accettato però noi prima di dare la linea alla pubblicità entriamo nel merito di quelli che sono i retroscena che naturalmente i retroscena li fanno i nostri colleghi giornalisti e i politici non vanno a confermarli naturalmente però c'è questa questione sarebbe divertente però se un politico andasse a confermare il retroscena guarda sì è così sarebbe molto più facile per noi vedo che perderebbero il lavoro se i politici fossero più espliciti nelle loro intenzioni e nelle loro strategie però vediamo appunto secondo il retroscena qual è la strategia di Forza Italia qual è la strategia di Berlusconi per coronare se vogliamo dire così la sua carriera politica ma forse anche un suo sogno personale quindi quello di sedersi sul colle più alto di Roma allora ricordiamo che quelli su cui Berlusconi deve puntare per arrivare alla magica quota dei 505 questo per essere eletto al quarto scrutinio oggi ad oggi se almeno se tutti il centrodestra votasse Berlusconi il leader di Forza Italia ne avrebbe 452 e quindi quanti ne mancano tu che sei bravi in matematica circa 53 il problema è questo cerchiamo anche di spiegarlo un attimo perché i grandi elettori lo sapete sono circa 1.800 e quindi ecco perché c'era questa soglia detta da Aurora dei 504 505 perché sono la metà più uno che basta dalla quarta votazione per farsi eleggere presidente della Repubblica lo ricordiamo oltre a deputati e senatori sono eletti una serie di componenti dalle regioni sono tre per ogni regione uno solo invece per quanto riguarda la Valle d'Aosta eccola lì che quindi si crea fra deputati e senatori 615 630 più 315 oggi proprio i numeri meno male che mi hai chiesto in apertura mi hanno fatto venire l'ansia coi numeri e così coi deputati insomma coi delegati regionali si arriva a 1.800 e c'è da chiarire che la maggior parte delle nostre regioni sono a guida centrodestra quindi anche i delegati regionali con ogni probabilità saranno a sostegno del buona parte a sostegno della coalizione di centrodestra dicevamo quindi 53 le persone che mancherebbero all'appello si parla al momento sono stati segnalati in questa caccia come appunto è stata definita che però la caccia al peone esatto sarebbero 22 deputati e 14 senatori per lo più abbiamo già detto ex pentastellati iscritti adesso al gruppo misto qualche ex renziano o attualmente renziano e i centristi di Bruno Tabaccia a me fa sorridere il fatto che Renzi cerca i fuoriusciti di Forza Italia e Forza Italia magari cerca i fuoriusciti da Italia Viva forse dovremmo chiamare Gianluca Di Marzio a questo punto esperto di calciomercato per questo che politici e vari per cercare di capire bene come si può districare la trama che porta alle camere del nostro Parlamento per raggiungere il numero magico di adesso l'ho imparato 505 ecco allora nello specifico i tre renziani su cui hanno puntato gli occhi gli azzurri sarebbero l'ex forzista Maria Teresa Baldini approdata a Italia Viva dopo un breve intermezzo con i totiani con i totiani di Coraggio Italia e quindi tornerebbe a Lovile esatto poi abbiamo Cosimo Ferri e l'ex forzista di nuovo alfagnano Gabriele Toccafondi tra i centristi tra l'altro c'è un deputato su cui Berlusconi scommette un deputato su cui Berlusconi scommette e Enrico Costa eletto con Forza Italia però poi passato con azione di passato in azione di calenda poi ci sono l'abbiamo già detto i cinque deputati del centro democratico di Bruno Tabacci e appunto in conclusione gli ex pentastellati nove di questi tra cui Rosalba De Giorgi Maria Lapia ma anche Stefano Begnini Claudio Pedrazi ed altri che però appunto non stiamo qui ad elencare perché queste sono le manovre che i partiti naturalmente stanno mettendo in campo per possiamo svelare tutto noi ci proviamo però a un certo punto margine di curiosità lo dobbiamo lasciare e vi sveleremo tutto noi nel corso degli speciali del nostro telegiornale che faremo proprio a partire dal 24 gennaio siamo tornati a volte ritornano esatto torniamo con i nostri con le nostre dirette speciali in vista dell'elezione del Quirinale preparate i pop corn mettetevi comodi al resto ci proviamo a pensare a tutto noi ci proviamo a pensare pubblicità torniamo tra poco a continuere a tutti a continuare a pensare